Salve a tutti, sono Paolo De Angelis e studio elettrotecnica all'Istituto Tecnico Statale Antonio Facinotti di Scafati. Quest'anno ho avuto l'opportunità di partecipare alla scuola AINSPIRE promossa dall'INFN, ovvero dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La scuola è appunto acronimo di International School on Modern Physics and Research, ovvero una scuola internazionale basata sulla fisica moderna e le sue applicazioni. In particolare il tema centrale di quest'anno erano le tecnologie quantistiche e l'intelligenza artificiale, che sono dei temi molto discussi nell'ultimo periodo. La scuola, che offriva 42 RBCTO, si è svolta a Frascati, dove Dio ed altri studenti selezionati provenienti da tutta Europa abbiamo soggiornato e partecipato alle numerose iniziative offerte. Vi racconto una classica giornata tipo. Innanzitutto la mattina ci svegliamo molto presto per poter svolgere le lezioni, ci regavamo dunque ai laboratori di Frascati degli NFN dove iniziavano le lezioni. Che prevedevano la presenza di numerosi esperti, da ricercatori, scienziati di NFN, ad ingegneri del posto, ad esperti esterni come ad esempio i responsabili dei progetti education del CERN, Sasha Schemling, ed altri. Le lezioni andavano praticamente a toccare qualsiasi aspetto della fisica moderna, ad esempio la fisica quantistica, la fisica delle particelle, quindi delle altre energie, all'astrofisica, alle uniti gravitazionali, quindi a tantissimi aspetti che riguardano la ricerca in fisica ai tempi d'oggi. Inoltre c'era anche la possibilità di prenotare dei corsi a scelta. Nel mio caso ho scelto quello di Ardo CPM, ovvero un silicon photomultiplier, un rivelatore di particelle che funzionava con Arduino. Il secondo invece era basato sulla spettroscopia a raggi gamma dei radioneucridi, che si è svolto in un laboratorio sempre della struttura del complesso di Frascati degli NFN. Le visite infatti dei laboratori erano molto frequenti, non solo facciamo lezioni ma andavamo anche spesso nei loro laboratori o comunque a fare attività interattive o esperimenti con i ricercatori e i professori. Tra le attività che particolarmente ho apprezzato ci sono le lezioni di fisica quantistica, che nonostante fossero divulgative erano abbastanza complicate e quanto interessanti, chiaramente svolti in lingua inglese per permettere a tutti i studenti di poter apprendere. Un'altra cosa che ho apprezzato particolarmente della scuola Inspire degli NFN è la varietà degli argomenti trattati. Infatti la scuola è recentrata sulla fisica quantistica, ma abbiamo comunque trattato di moltissime branche della fisica e questo per noi studenti è molto importante. Grazie a questa scuola ho avuto modo di poter rafforzare le mie convinzioni nella scelta universitaria della facoltà di fisica e inoltre ho avuto modo di riconoscere tantissime altre persone con la mia stessa passione e una storia simile alla mia. Grazie mille della visione.